Il nemico covid non è ancora sconfitto, i contagi salgono in tutto il paese così come aumenta la pressione sugli ospedali con nuovi ingressi nelle terapie intensive e nei ricoveri. Ma la situazione all'ospedale Marche Nord di Pesaro è ancora sotto controllo. In terapia intensiva ci sono attualmente quattro persone ricoverate, altri due sono in subintensiva, un'altra in malattie infettive e ancora una donna positiva in sala parto. Si tratta per la maggior parte dei casi di persone che non erano state vaccinate così come raccontano ai microfoni di Fano TV gli stessi medici dei reparti. Ora i pazienti colpiti dal covid sono molto più giovani rispetto al passato e l'imprevedibilità della variante delta continua a preoccupare. Il problema è quello della variante delta che ha portato ad un aumento dei casi perché è una variante che provoca fondamentalmente due cose. Uno c'è una carica virale molto più alta, mille volte l'altra e ha un tempo di latenza di quattro giorni rispetto ai sei, sette giorni dell'altra per cui è più diffusiva. Diffonde nella popolazione per un 40-60% in più della precedente e questo soprattutto nella popolazione giovane che non è vaccinata e che per forza di cose gira durante questo periodo estivo. I pazienti ricoverati sono soggetti che non erano stati vaccinati oppure sì? Di tutti quelli che abbiamo avuto sono nove nella subintensiva e quattro non erano vaccinati, due pazienti erano stati vaccinati soltanto parzialmente. Sappiamo che la variante delta è coperta dalla vaccinazione completa ma non da una vaccinazione incompleta e un paziente aveva completato il ciclo vaccinale il giorno prima di essere infettato quindi non era coperto. Qual è l'età dei soggetti più colpiti oggi dal virus? Molto più giovane della precedente ondata, siamo sui 50 anni, sono pazienti giovani che rispondono alle terapie però il problema ancora esiste. Il vaccino resta l'unica arma ad oggi per sconfiggere il covid? Il vaccino è l'arma migliore che abbiamo al momento per sconfiggere il covid sicuramente, sicuramente. Dobbiamo aspettarci una quarta ondata secondo lei? Dunque una quarta ondata secondo me c'è sicuramente, forse già sta iniziando. Quello per cui sono molto fiducioso appunto per la vaccinazione è che non abbia l'impatto sugli ospedali sulle terapie intensive che hanno avuto le ondate precedenti.